Siete guidate, lezioni aperte a tutti, le università italiane mettono in mostra il loro patrimonio. Antonella Maffei. Le università si svelano, si svelano nei roseti, nei giardini, si svelano nei musei, si svelano nelle collezioni d'arte. Si svela a tutta la città perché tutti possono partecipare. Tutti possono partecipare alle nostre lezioni, tutti possono visitare i nostri musei, tutti possono visitare la Cappella Pignatelli, e partecipare ai convegni che oggi sono tanti. È una festa. Al Sororsola, ben in casa, come in altri 80 atenei italiani, è una giornata nazionale dedicata alle università. Aperture svelate al grande pubblico per contribuire al consolidamento della coesione sociale, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio, un chiaro segno di condivisione dei saperi per il ministro Bernini. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro, dall'interno di aule, cortili, biblioteche, musei e laboratori. Focus su Don Milani all'Unisobba, la Van Vitelli apre le porte del Musa, si parla dei nuovi scenari di guerra all'Istituto Orientale, visite all'Orto Botanico e al Museo di Scienze Naturali per la Federico II svelata. L'elenco completo sul sito della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane che ha istituito l'iniziativa.